Musica Tragedia questa mattina a Taranto, due perai muoiono precipitando da un cestello elevatore durante i lavori di ristrutturazione di un edificio a rione Tamburi. Non indossavano i caschi di protezione né erano imbragati. Nel Foggiano un'imprenditrice muore schiacciata da un muletto in retromarcia. Sette pugliesi su dieci e il 52% degli intervistati ritengono che la mafia sia un fenomeno globale e socialmente pericoloso. Sono solo alcuni dei dati relativi al report Libera Idee, la ricerca sociale fatta dall'Associazione Libera su un campione di 343 pugliesi. Stabilizzati i 103 precari della ASL della BAT, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, medici di diverse discipline, psicologi, ostetrici e biologi. Ora si pensa in grande e si punta ad altre 5.000 assunzioni, ma in Consiglio regionale viene rinviato l'esame della legge sulle liste d'attesa in sanità. Giù le mani dell'informazione e anche i giornalisti pugliesi reagiscono alle parole del vicepremier Luigi Di Maio. Flash mob in tutti i capoluoghi regionali e anche a Bari. L'articolo 21 dicono non si tocca. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Antenna Sud. In apertura lo avete sentito nei nostri titoli. I due operai sono morti questa mattina a Taranto cadendo da un cestello elevatore durante i lavori di ristrutturazione della facciata di un edificio a Rione Tamburi. Polizie e carabinieri al momento sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica della vicenda. Lavoravano a un'altezza di circa 10 metri su un cestello elevatore, il mezzo poi. Pare si sia ribaltato, inspiegabilmente. Troppo violento l'impatto sull'asfalto? Non ce l'hanno fatta Giovanni Palmisano, di 40 anni, titolare della Gioedil. Era di Cisternino, ma viveva a Locorotondo. Con lui anche Angelo D'Averso, operaio di 54 anni, di Martina Franca, ma che viveva a state. Le manovre di rianimazione messe in atto dal personale del 118 intervenuto sul posto non sono servite a nulla. E adesso ci si chiede se fossero imbragati con le cinture di sicurezza. La tragedia che si è verificata al quartiere Tamburi di Taranto porta sotto i riflettori ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro. Le due vittime erano impegnate nel rifacimento di una facciata di un palazzo in via Galeso. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e procederanno alle indagini la polizia, i carabinieri e anche lo Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. E l'incidente verificatosi a Taranto riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro. Troppo spesso si muore sui cantieri edili, numeri allarmanti, soprattutto in Puglia. 630 da inizio anno, il 20% nei cantieri, sono i numeri italiani delle morti sul lavoro. 67 nella sola Puglia, 6 morti a Brindisi, 7 a Taranto, ben 5 nel settore delle costruzioni. 7 dopo il tragico incidente delle scorse ore nel capoluogo ionico, in cui perdono la vita due operai, padre e figlio. Si allunga la scia di sangue nel settore edile che si conferma tra quelli con più alto indice di infortuni, troppo spesso mortali. Una tragedia inaccettabile che ci lascia sgomenti, dichiara il segretario nazionale della Filca, CISL Stefano Macale. Continuiamo a ripetere che serve una cultura della sicurezza che vada oltre la repressione, ma che abbracci sia la formazione che l'informazione. Su questi temi, conclude il segretario, il governo dovrebbe coinvolgere le parti sociali e il sistema della bilateralità, molto diffuso in edilizia e composto da centinaia di professionisti che in tutta Italia danno il loro contributo quotidiano per la sicurezza e la formazione nel lavoro edile. Un loro coinvolgimento attivo non può che dare un contributo prezioso alla cultura della sicurezza, ponendo così fine a questa intollerabile lista di morti sul lavoro. E continuiamo purtroppo a parlare di morti sul lavoro, questa volta a farne le spese una imprenditrice laziale che è stata travolta da un muletto in retromarcia nelle campagne di Torre Maggiore nel Foggiano. La donna è morta sul colpo. È stata travolta da un muletto in retromarcia Rita De Vellis, imprenditrice di 48 anni di Strangola Galli in provincia di Frosinone, morta schiacciata dal mezzo guidato da un suo collaboratore mentre si trovava in un terreno nelle campagne di Torre Maggiore nel Foggiano. La donna è deceduta sul colpo, inutili soccorsi da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, stando a quanto denunciato dal legale della famiglia della vittima. L'imprenditrice stava dirigendo delle operazioni di carico e scarico delle balle di fieno e paglia su alcuni mezzi, quando improvvisamente sarebbe stata travolta dal muletto guidato da un suo collaboratore mentre quest'ultimo effettuava una manovra in retromarcia. Sia l'intera area dove si è verificato l'incidente, sia il mezzo meccanico sono stati posti sotto sequestro. I familiari chiedono chiarezza sulla dinamica, pertanto hanno messo la salma della donna a disposizione della magistratura. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di inchiesta, mentre il collaboratore, alla guida del muletto, dovrà rispondere di omicidio colposo. Avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale in un androne di un edificio al quartiere Sampio di Lecce. C'è paura per una 19enne di Taranto che avrebbe messo in fuga i suoi aggressori, evitando il peggio. Intanto è caccia agli autori del gesto. Sarebbe stata colta di sorpresa nell'androne del palazzo di residenza a Lecce, nel quartiere Sampio, una giovane studentessa tarantina di 19 anni, che con forza è riuscita a mandar via due malviventi che avrebbero cercato prima di spogliarla e poi di violentarla. L'episodio è accaduto sabato sera, ma solo ora vengono resi noti alcuni particolari della vicenda. Come riferiscono gli agenti della questura di Lecce che hanno avviato le indagini, i due presunti molestatori hanno agito con il volto scoperto e dai lineamenti sembrerebbero essere stranieri due i particolari descritti, il tatuaggio ad una mano e una verruca sul viso. La giovane, presa dallo spavento, ha iniziato ad urlare e a respingere con tutte le sue forze i due, che continuavano a palpeggiarli e a continuare nelle intenzioni, salvo poi desistere e fuggire prima che le grida attirassero l'attenzione del vicinato. La svolta nelle indagini potrebbe arrivare dai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona e lungo il tragitto compiuto dalla giovane, come la stessa vittima raccontato, sembrerebbe che i due la stessero pedinando già da tempo. Restiamo a Lecce perché potrebbe trattarsi di un colpo milionario quello messo a segno alla BNL e gli agenti con i clienti stanno quantificando la merce rubata dalle cassette di sicurezza, sarebbero state 80, sarebbero 80 quelle aperte. Continuano le indagini della squadra mobile per risalire alla dinamica dei fatti e dagli autori dell'assalto commesso alla BNL di piazza Santoronzo a Lecce al vaglio degli investigatori nastri di tutte le telecamere di videosorveglianza, sia interne alla banca che esterne. Sebbene l'impianto sia stato manomesso, i poliziotti sperano di riuscire a recuperare i filmati. Il bottino è ancora tutto da quantificare, anche se i malviventi sono fuggiti lasciando per terra un trolley con 90.000 euro. Di certo hanno portato con sé il contenuto di 80 delle 310 cassette di sicurezza presenti nel cavo e aperte non con una fiamma ossidrica ma con un semplice cacciavite. Per avere un dato certo del valore rubato bisognerà attendere il termine dell'ascolto di tutti i clienti, catalogare il contenuto di ciascuna cassette e quantificare. Se potrebbe trattarsi di un colpo milionario dunque bisognerà attendere qualche giorno. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti, di certo i malviventi non sono degli sproveduti, un piano ben studiato e sono entrati nella banca senza forzare nulla, probabilmente fingendosi i clienti si sono nascosti all'interno dell'istituto di credito già venerdì sera, magari in un bagno rimanendo chiusi fino a domenica, quando alle ore 13 è scattato il primo allarme. Avrebbe dapprima rubato il portafogli di una tour manager chiuso in un camerino, poi con la carta Bancomat avrebbe cercato di prelevare 1000 euro da uno sportello, ai domiciliari un dipendente della vigilanza privata del Petruzzelli di Bari. Avrebbe rubato un portafogli all'interno di un camerino del teatro Petruzzelli di Bari, tentando poi di prelevare denaro con il Bancomat che era all'interno. Per i reati di furto aggravato e in debito utilizzo di carta di credito, i carabinieri hanno arrestato un 44enne barese con vecchi precedenti penali per furto e droga, dipendente dell'istituto di una vigilanza privata incaricato del servizio di sicurezza del teatro. All'uomo sono stati concessi i domiciliari, stando a quanto accertato dalle indagini partite dalla denuncia della vittima del furto alla tour manager di uno spettacolo musicale in scena lo scorso 18 marzo nel teatro barese che sarebbe stato sfilato dalla borsa il portafogli e custodita nel camerino. Le sarebbero così stati sottratti i documenti, una carta di credito, un banco, ma 80 euro in contanti. Qualche ora più tardi la carta di credito sarebbe stata utilizzata per tentare un prelievo di 1000 euro all'identificazione del 44enne gli investigatori sono giunti grazie alle immagini di sorveglianza dello sportello banco. Ma all'interrogatorio di garanzia l'indagato ha negato di aver commesso il furto spiegando di aver trovato per strada la carta di credito e ammettendo di aver tentato il prelievo del denaro ma senza riuscirvi. Ma gli inquirenti sono riusciti ad accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. E le fiamme gialle di Bari hanno sequestrato oltre un milione di cosmetici pericolosi per la salute e oltre 1000 lampade UV made in China e in tutta Italia, sequestri anche nel capologo pugliese. Oltre un milione di cosmetici cinesi pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza su disposizione della magistratura barese a Milano, Roma, Bari e Giuliano in Campania. Le indagini della procura di Bari hanno rilevato in un ingente quantitativo di ombretti e fard concentrazioni di metalli notevolmente superiori ai limiti imposti dalla regolamentazione comunitaria di settore e lampade UV con falsa marcatura c'è. In alcuni casi le stesse etichette apposte sulle confezioni dei cosmetici indicavano la presenza di componenti estremamente nocivi per il consumatore e per l'ambiente. Mica, stearato di magnesio, dimeticone, paraffina liquida, polibutene, fenoxietanolo. L'indagine, coordinata dal PM Marcello Querce, è stata denominata Makeup e ha consentito di ricostruire anche la filiera di distribuzione dei prodotti cosmetici contraddistinti dai marchi Yesensi, Susime Capitali e Terzio. Tutti di produzione cinese e commercializzati in Italia da sei operatori commerciali ora indagati per vendita di prodotti pericolosi per la salute pubblica e frode. Nel Mirino sei società, 13 indagati, 11 di nazionalità cinese e due italiani. L'indagine era partita un anno fa a Bari. Qui i finanzieri hanno sottoposto a sequestro altre centinaia di prodotti all'interno di un negozio gestito da un uomo di nazionalità cinese, anche lui ora indagato. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bari, in collaborazione con gli agenti, con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto al porto, all'interno di bagagli a mano, 54 mila euro non dichiarati. Si è trattato di due tentativi di illecita esportazione ed uno di importazione, messi in atto tutti da cittadini di nazionalità albanesi. I trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'oblazione immediata, secondo la normativa vigente. Cinque auto in fiamme sulla stessa strada a Lecce. Si indaga. Quinta auto in fiamme sulla stessa strada. I roghi di Via Idomeneo diventano un caso su cui gli agenti della questura di Lecce stanno indagando per cercare di dare delle risposte e capire se gli episodi siano collegati tra di loro. Le fiamme questa volta hanno interessato la parte posteriore di una BMW X5. L'incendio ha anche danneggiato una Nissan parcheggiata accanto. La matrice del rogo sembra essere opera di un piromane. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. I poliziotti sono già a lavoro visionando tutte le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona. Negli ultimi mesi nella stessa strada ci sono stati ben altri quattro incendi di autovetture. Un Alfa Mito, una Toyota Rav, Polo Volkswagen, un Alfa Romeo 159. Le vittime non sembrano avere alcun legame fra loro, semplicemente accomunati dalla stessa sorte. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta su un probabile fenomeno di inquinamento ambientale che si sta verificando a Soleto, nel Leccese, dove da qualche giorno sta accadendo pioggia acida di colore giallastro che è anche difficile da rimuovere. È stato lo stesso comune Salentino a sollecitare l'intervento della procura. Oggi il PM Mignone ha acquisito la relazione del comando di polizia locale e il dossier fotografico e ha disposto campionamenti. Si tratterebbe di una deposizione acida umida, ovvero di pioggia acida, un fenomeno che rappresenta un segnale di inquinamento segnalato al comune da alcuni cittadini è visibile, soprattutto sulla via per Galatina. Sono interessati auto, pannelli fotovoltaici, giardini e panni stessi sui balconi delle case. Sette pugliesi su dieci e il 52,2% degli intervistati ritengono che la mafia sia un fenomeno globale e socialmente pericoloso. Sono solo alcuni dei dati relativi al report Libera Idei. La ricerca sociale è composta dall'Associazione Libera su un campione di 343 pugliesi. Sette pugliesi su dieci ritengono che la mafia sia un fenomeno globale. Il 52,2% la considera un fenomeno preoccupante e socialmente pericoloso dovuto per lo più ai guadagni facili, alle difficoltà economiche e lavorative, alla ricerca di potere e al contesto familiare. Sono alcuni dei dati del rapporto Libera Idei. È una ricerca sociale fatta dall'Associazione Libera su 343 questionari sottoposti ai pugliesi che fotografa la percezione che i cittadini hanno dei fenomeni corruttivi e mafiosi. Anche la percezione della diffusione della corruzione in Puglia risulta molto ampia, il 90,4%. Dal report emerge che la sfera politica è il principale bersaglio selettivo della sfiducia. Il coinvolgimento nella corruzione viene considerato significativo nei confronti di membri del Governo e del Parlamento, 55,4% e i membri dei partiti, 46,6%. Viene inoltre segnalato in misura superiore alla media nazionale un presunto coinvolgimento di esponenti delle forze dell'ordine, 24,2%, in particolare da parte dei giovani. I motivi principali per cui gli episodi di corruzione non vengono denunciati sono il timore per le conseguenze e la paura che l'intero sistema sia corrotto. Con riferimento ai fenomeni mafiosi, i pugliesi ritengono tra le attività principali della mafia in Puglia il traffico di stupefacenti, 70%, l'estorsione, 40,8% e il lavoro nero, 36,4%. Tre pugliesi su quattro infine percepiscono i beni confiscati alla mafia come una risorsa per il territorio, ritenendo che dovrebbero essere destinati in misura prioritaria cooperative orientate all'inserimento lavorativo dei giovani, 36,7% e alla realizzazione di luoghi pubblici di aggregazione ed educazione alla cittadinanza, 21,3%. Cambiamo adesso decisamente argomento, parliamo di sanità. Stiamo facendo solo la metà del nostro dovere. Così Michele Emiliano ufficializza la stabilizzazione di 103 precari dell'ASL-BAT a Trani, nelle scorse ore, la firma dei contratti. In 103 avranno un contratto a tempo indeterminato, si tratta dei precari dell'ASL-BAT che hanno firmato nelle scorse ore la stabilizzazione a Trani, alla presenza del governatore Michele Emiliano. 47 di loro sono infermieri, ma ci sono anche tecnici di laboratorio e radiologia, medici di diverse discipline, psicologi, ostetrici e biologi. Stiamo facendo soltanto la metà del nostro dovere, commenta il capo della Giunta del Tacco, citando l'accordo con i ministeri alla Sanità e all'Economia, ma anche il piano di riordino, talvolta doloroso, ammette lui da assessore al ramo, per la riconversione degli ospedali in presidi territoriali. Lo stesso però, in virtù del quale si stima di poter assumere in futuro anche circa 2.000 nuovi medici e 3.000 operatori sanitari. Per loro è stato come un matrimonio, come una comunione, come un compleanno, perché il lavoro, che forse non è la cosa più importante della vita, però senza il lavoro è impossibile fare le cose importanti della vita. Sono venuti con i bambini, con i genitori, con i mariti e devo dire che per me è stata una grande soddisfazione perché questi tre anni di sofferenza per rimettere in piedi il sistema sanitario nazionale e regionale non sono stati semplici. Quindi vedere i primi risultati di questo lavoro mi fa molto piacere. Continuiamo a parlare di sanità. In Consiglio regionale appunto si parla di liste d'attesa. Terminata la discussione generale, l'ente di via Capruzzi ha deciso di rinviare l'esame dei sei articoli alla seduta del 27 novembre prossimo, come chiesto dal Presidente Emiliano. Sulla riduzione delle liste d'attesa in sanità bisognerà attendere ancora, almeno fino a fine novembre. E quanto ha stabilito il Consiglio regionale della Puglia rinviando su proposta dell'assessore alla sanità e Presidente della Regione Michele Emiliano alla seduta del 27 novembre l'esame di sei articoli della proposta di legge avanzata da Fabiano Amati e Ruggero Mennea del PD, Napoleone Cera dei Popolari e Enzo Colonna NAS. Sulla proposta di legge, che nella parte più controversa prevede la sospensione dell'attività a pagamento qualora i tempi di attesa siano molto più brevi di quelli per l'attività istituzionale sono stati presentati una quarantina di emendamenti. La proposta di sospensione dell'esame è scaturita al termine della discussione generale motivata da Emiliano con la necessità di consentire una riunione con l'ausilio degli uffici tecnici e dell'avvocatura della Regione Puglia per trovare un punto in comune e un modo di uscire da questa vicenda senza aditare come persone scorrette i medici che fanno intramenia. Una volta fatti questi passaggi è possibile che se si deve approvare una decisione così forte a questo punto lo si faccia con una coscienza pienamente consapevole, ha concluso Emiliano di aver fatto tutto il possibile per evitare un provvedimento sicuramente forte ma che potrebbe rischiare di essere considerato troppo generalista. Parliamo adesso di politica ma continuiamo a parlare di Michele Emiliano perché sarà il candidato di bandiera dei democratici per le regionali del 2020 con eventuali primarie di coalizione all'inizio del 2019 per contendergli la leadership il via libera dalla direzione pugliese del Partito Democratico bis per Elena Gentile alle europee ad Antonio De Caro a Palazzo di Città ma anche la richiesta al tarantino Rinaldo Melucci di ritirare le dimissioni da sindaco. Elena Gentile verso la riconferma tra gli scranni dell'Europarlamento e la richiesta a Rinaldo Melucci di ritirare le dimissioni e restare sindaco di Taranto ma soprattutto il bis di Michele Emiliano sulla poltrona più alta di lungomare Nazario Sauro sono i risultati della direzione regionale di Edem in una roadmap fino al 2020 che passa per la riconferma di Antonio De Caro a Bari a Palazzo di Città e da eventuali primarie per contendere al governatore uscente la leadership della coalizione al governo in regione da allargare spiega il numero uno in carica del partito del Tacco Marco Lacarra a civismo e progressisti sugli eventuali gazebo si esprimerà il tavolo del centro-sinistra da riunire a breve per stabilire anche l'agenda di fine mandato fatto sta che non si dovrebbe andare oltre la prima parte del 2019 non fosse altro dal momento che a quel punto si sarà già nel pieno del rush finale delle comunali Bari e Foggia in primis vera e propria prova generale di alleanze ed equilibri per ricostruire i quali basterà soppesare nomi e liste in campo più o meno in filigrana insomma Emiliano c'è ed è ufficialmente il candidato di bandiera del PD solo prassi e galanteria politica oppure un modo per chiamare gli avversari interni ed esterni a scoprire le carte e accelerare la costruzione di alternative al capo della giunta pugliese se è per questo di mezzo ci saranno anche europee congresso dem ma questa è un'altra storia o quasi insomma come dicevamo Pirima tiene banco tra le fila del PD anche il caso Taranto infatti nell'ultima direzione regionale si è parlato del partito pugliese si è parlato del caso delle dimissioni di Rinaldo Melucci e quindi è apparsa la richiesta ufficiale al sindaco di ritirare le dimissioni Unanimamente e riconoscendo la legittimità della candidatura a presidente della provincia così nella nota licenziata dallo stato maggiore del partito pugliese il PD chiede a Rinaldo Melucci di fare un passo indietro sulle proprie dimissioni dal sindaco di Taranto sarà che il conto alla rovescia va avanti e che il primo cittadino non offre segnali ai suoi ma dopo gli appelli sono gli stessi democratici a prendere ufficialmente posizione in una direzione regionale alla presenza del numero uno della federazione ionica Giampiero Mancarelli convitato di pietra resta Michele Emiliano da una parte nome di bandiera PD alle regionali che verranno a patto si intende di allargare la coalizione a civici e progressisti dall'altra accusato di aver fatto da regia occulta al fuoco amico che ha impallinato Melucci al quale pure l'assemblea delle scorse ore ha confermato l'apprezzamento in termini di lavoro svolto a tutela dei cittadini garantendo pieno sostegno all'azione amministrativa futura il referente dei piani alti è lo stesso basta regolamenti di conti manda a dire Marco Lacarra segretario in carica del tacco e per i ben informati anche promotore di una lista ad hoc al fianco di Antonio De Caro a Bari nei mesi a venire basterà convincere anche Melucci a tornare sui suoi passi e lo farà con o senza puntelli ulteriori ovvero passando o no per un rimescolamento di carte in giunta però ratace a parlare è solo la clessidra lasciamo la politica cambiamo argomento i giornalisti di Puglia si mobilitano contro le parole del vice premier Luigi Di Maio che nei giorni scorsi aveva attaccato la categoria con parole abbastanza forti i flash mob questa mattina anche a Bari il punto sentiamo nel servizio giù le mani dall'informazione anche i giornalisti pugliesi reagiscono alle accuse del vice premier Luigi Di Maio dopo la notizia di assoluzione del primo cittadino di Roma Virginia Raggi accusata di falso in atto pubblico il ministro rinfaccia i titoli a suo dire aggressivi con cui la stampa nazionale avrebbe raccontato la vicenda che ha visto al centro negli ultimi due anni la sindaca della città capitolina e annuncia una legge sull'editoria a infervorare gli animi dei giornalisti d'Italia alle parole inequivocabili del leader pentastellato pennivendoli e sciacalli dice senza distinzioni intimando una riforma del settore il flash mob che è coinvolto tutti i capologhi regionali dello stivale intende difendere l'articolo 21 della Costituzione in cui si parla chiaramente della libertà di pensiero e di parola degli organi di stampa noi difendiamo quell'articolo non il nostro lavoro ma la libertà di essere informati di poter avere una di poter formare un'opinione pubblica per controllare quelli che vanno al potere che governano siano gialli siano verdi siano rossi siano bianchi questo è il sale della democrazia se questo non lo si comprende vuol dire che non solo la libertà di stampa è in pericolo ma sono in pericolo i valori della democrazia nella quale viviamo a causa della nebbia che dalle prime ore della sera fino alla mattinata inoltrata sta caratterizzando il risveglio di tanti pugliesi molti voli in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati cancellati dirottati o in ritardo vediamo cosa è accaduto cancellazioni ritardi e dirottamento dei voli e quanto si sta verificando negli aeroporti di Bari e Brindisi a causa della fitta nebbia che dalle prime ore della sera perdura fino alla mattinata inoltrata un fenomeno che ormai si sta verificando già da un paio di giorni e che probabilmente durerà anche per le prossime 36-48 ore all'aeroporto Carol Vuitiwa di Bari è stata ritardata di ben 17 ore la partenza del volo Ryanair per Torino quasi 3 ore di ritardo invece per i voli all'Italia con destinazione Roma-Fiumicino e Milano-Linate della mattinata gli aerei hanno lasciato la pista solo quando la nebbia si è diradata non si segnalano invece particolari disagi negli arrivi non è andata meglio a Brindisi avvolta nella nebbia fin dal primo pomeriggio con i voli per Roma Milano e Pisa pomeridiani cancellati dirottati su Bari invece i voli in arrivo da Fiumicino e Linate quelli per Torino e Pisa la situazione delle arrivi e delle partenze aggiornate in tempo reale sul sito internet della società Aeroporti di Puglia il consiglio ovviamente è quello di contattare lo scalo la propria compagnia aerea e controllare il sito prima di mettersi in viaggio cultura e spettacoli la musica classica a prezzi ridotti e per tutte le esigenze tornano al teatro Petruzzelli Family Concert gli appuntamenti concertistici alle 18 la musica classica a prezzi ridotti e in orari in linea con le esigenze della famiglia tornano al Petruzzelli i Family Concert appuntamento per gli amanti della musica classica che propone programmi ideati per la formazione di spettatori di tutte le età la rassegna è organizzata in collaborazione con gli assessorati e le culture al welfare del comune di Bari e i cinque municipi si inizia venerdì prossimo 16 novembre alle 18 quando l'orchestra del teatro sarà diretta dal maestro Alessandro Cadario direttore ospite principale dell'orchestra i pomeriggi musicali di Milano che proporrà l'overture in si minore opera 26 di Felix Mendelssohn suite numero 1 per piccola orchestra di Igor Stravinsky e sinfonia numero 7 in La Maggiore opera 92 di Ludwig van Beethoven come annunciato dal sovrintendente Massimo Biscardi a partire da questo e per tutti i Family Concert saranno messi a disposizione del pubblico due fasciatoi attrezzati per cambiare i piccoli spettatori in caso di necessità i biglietti costeranno ancora per tutta questa stagione un euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni e 5 euro per gli altri spettatori presentata questa mattina l'ottava edizione del Foggia Film Festival che si terrà dal 18 al 24 novembre all'auditorium Santa Chiara al Teatro Umberto Giordano e al Cineporto di Foggia tante novità e momenti di riflessione con al centro i giovani e i temi sociali d'attualità il cinema come veicolo di trasmissione di temi sociali importanti e di grande attualità come la legalità il bullismo l'integrazione e la parità di genere questo l'intento dell'ottava edizione del Foggia Film Festival con 82 titoli in catalogo e una nutrita presenza di autori e produzioni pugliesi tra questi l'attore e regista Paolo Sassanelli che vestirà il ruolo di presidente di giuria tanto spazio riservato anche ai giovani con il contest Student Film Fest dedicato alle opere realizzate dagli studenti provenienti da tutta Italia con vari momenti di riflessione e conversazione circa i vari temi trattati il claim di quest'anno è social experience quindi è un viaggio attraverso il sociale per cui avremo pellicole cortometraggi documentari il cinema del reale che parlano di sociale il Foggia Film Festival diciamo accoglie nella sua cornice lo Student Film Fest che è un concorso nazionale dove vi partecipano universitari e scuole superiori devo dire che abbiamo avuto adesioni da tutta l'Italia per cui lunedì e martedì al Cineporto dove si svolge questo contest ci saranno le telecamere di Rai Cultura che effettuerà un reportage interviste ai giovani e sarà con noi due giorni anche la sera della premiazione per cui è partnership del Foggia Film Festival e poi Rai Cultura ha preso l'impegno anche di proiettare diciamo mettere in onda i migliori lavori sui suoi canali tematici direi che questo è proprio un punto qualificante credo che quest'anno l'ambizione sia davvero molto grande soprattutto l'ambizione di poter parlare attraverso una proiezione cinematografica di temi attuali importanti di cui noi non solo abbiamo il dovere di continuare a parlare ma dobbiamo avvicinare i giovani il più possibile il prima possibile a determinate tematiche e mi piace molto che tutto questo avvenga davvero attraverso i riflettori e soprattutto attraverso un film i film le immagini l'arte la cultura e il cinema hanno il dovere di sensibilizzare e con gli appuntamenti del Foggia Film Festival chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale prima di lasciarvi vi ricordo che tutte le nostre news sono su antennasud.com e sulla nostra pagina facebook spazio adesso a Davide Abrescia e alle notizie di sport prossimo appuntamento con l'informazione su questa rete e per le 7.15 non mi resta che augurarvi un buon proseguimento a Davide Abrescia